Stiamo attendendo gli scrutatori che arrivino e stiamo allestendo tutti i procedimenti che servono per il voto di domani. Adesso dobbiamo vidimare le schede, timbrarle, cominciare a compilare i verbali. Domani mattina il seggio apre alle 7. La sfida per la regione da una parte, le competizioni nei comuni dall'altra, e poi il referendum costituzionale e l'incognita affluenza su cui peseranno i timori di contagio. Sono 782.938 i tre vigiani che saranno chiamati alle urne domani e lunedì. Per tutti la scheda per esprimere il proprio voto per il rinnovo della presidenza della regione e del consiglio regionale, così come quella per dire la propria sul referendum sul taglio del numero dei parlamentari. Cinque invece i comuni al voto, il maggiore dei quali, e anche l'unico che potrebbe andare al ballottaggio, è Castelfranco Veneto, dove in cinque corrono per la carica di primo cittadino. Al voto anche Spresiano, Arcade, Vidor e Chiarano, comune commissariato nella scorsa tornata per il mancato superamento della quota del 50% dei votanti. In campo quindi 15 candidati sindaco e 378 aspiranti consiglieri. Si vota domani dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Per la regione 9 gli sfidanti per il ruolo di presidente del Veneto, supportati da 17 liste. Ammessi il voto disgiunto e valido il voto di preferenza, in qualsiasi punto della scheda si riporti il cognome del candidato. In caso le preferenze siano due, devono riferirsi ai componenti di una sola lista, uomo e donna. Il referendum costituzionale sul taglio del numero dei parlamentari, che ridurrebbe di 345 le presenze nelle due camere, è confermativo, vale a dire che non prevede quorum. L'inizio dello spoglio delle schede è previsto dalle 15 di lunedì, cominciando proprio con quelle referendarie a seguire le regionali. Solo martedì dalle 9 del mattino lo spoglio delle comunali, per accedere ai seggi, obbligatoria la mascherina e al momento dell'ingresso e la sanificazione delle mani col disinfettante. Mascherina che andrà tolta per l'identificazione dell'elettore. Previsti seggi volanti per gli isolati per il Covid-19, che potranno esprimere il loro voto da casa.